Nella sesta giornata del campionato di Serie D girone H, la Gelbison esce sconfitta per 1-2 contro il Città di Fasano. L'incontro inizia con un sostanziale equilibrio tra le due squadre che si affrontano a viso aperto senza concedere grandi occasioni agli avversari. La prima occasione arriva al diciottesimo sugli sviluppi di calcio d'angolo. Tazza prova la deviazione di tacco, il pallone termina di poco alto. La Gelbison continua a spingere al ventisettesimo, arriva un'altra ghiotto occasione per passare in vantaggio. Su schema da palla inattiva, Lollo va vicino alla rete del vantaggio. Il Città di Fasano prova a rispondere al ventinovesimo con un grande lavoro di Renelus che recupera palla sul russo, poi si lancia in contropiede fino ad entrare in area di rigore, ma il tiro non impenserisce Milano. Il primo tempo termina così con il risultato di 0-0. Nella ripresa il Città di Fasano trova il vantaggio al cinquantacinquesimo con un grande colpo di testa di Renelus su cross di Calabria per lo 0-1 degli ospiti. La Gelbison prova a rispondere al gol subito, ma il Città di Fasano va vicino alla rete dello 0-2, al settantasettesimo con lo Savio, che esemina il panico nella difesa cilentana ma mette il pallone di poco a lato. Su ribaltamento di fronte arriva la rete della Gelbison con Dellino al settantottesimo, abile l'attaccante dei rosso-blu a calciare da terra e sorprendere la Zara per l'1-1. La Gelbison avrebbe la possibilità di trovare il vantaggio all'ottantaduesimo sugli sviluppi di calcio piazzato, ma prima Lollo e poi Dellino trovano un super lazzar sulla propria strada, a dire di no alla possibilità del vantaggio della squadra di casa. La partita però si decide all'ottantaquattresimo, dove sugli sviluppi da corner lo Savio si fa trovare pronto sul primo pallo a spingere la palla in rete per il 2-1. La Gelbison si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma il Città di Fasano sfiora il colpo del K.O. due volte, prima con lo Savio ed infine con Triarico, che colpisce la traversa a Milan battuto. Termina così, con il risultato di 1-2, per il Città di Fasano l'incontro, con la Gelbison che si ferma dopo tre vittorie consecutive. Ma io credo per affrontare una squadra così, per abbassare l'insidio, avevamo detto ci voleva un gioco di squadra, ci voleva una squadra che andasse ad abbattere quelli che sono i pericoli, e credo che oggi la mia squadra ha fatto qualcosa di eccezionale, ma non per la vittoria, l'avrei detto al di là della vittoria, anche in caso di pareggio, perché oscurare il play loro, i due play loro, perché Manzo e Coppola sono giocatori importanti, correre dietro, non appressare, correre dietro i loro quinti talvolta è importante, oscurare le punte che il primo tempo non le abbiamo fatto bene, il secondo tempo meglio, non è una cosa semplice, perciò io devo solo battere le mani e dire grazie, bravi i miei giocatori. Noi oggi non abbiamo fatto una buona gara, sotto il profilo dell'intensità non mi è piaciuta, ci siamo adagiati un po' ai loro ritmi, era una partita difficile perché loro sono un'ottima squadra, è stata una partita molto equilibrata al primo tempo, poi nel secondo tempo loro l'hanno sbloccata su un traversone laterale e poi dopo, niente, eravamo anche riusciti a recuperarla, la potevamo, in quel momento lì ho forzato un po' la partita togliendo il play, mettendo il tre quarti che era Tiziano, siamo riusciti a recuperarla, la potevamo in un certo momento, ho pensato anche di poterla vincere, però sinceramente mi sono accorto anche che stavamo rischiando più del necessario sulle ripartenze, peccato, però andiamo avanti, c'è da lavorare, dobbiamo migliorare in tantissime cose, mi dispiace perché queste partite qui non le devi perdere se non riesci a vincere, poi l'hai recuperata, su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo siamo stati distratti e quel posizionamento ci è costato la partita.